Al quarto giorno di protesta contro il carro carburante, le prime ripercussioni dei sit-in degli autotrasportatori in Sardegna iniziano a vedersi. Arriva oggi la decisione da parte di alcuni tra i principali Corrieri Espresso nazionali di sospendere temporaneamente le spedizioni e le consegne da e per la Sardegna. I sit-in organizzati in tutti i principali porti sardi, da Cagliari a Olbia a Porto Torres, stanno infatti rallentando fortemente le operazioni di imbarco e di sbarco delle merci, senza contare il fatto che molti autotrasportatori, una volta arrivati sulla terraferma, si uniscono alla protesta dei colleghi. Tra le imprese che hanno deciso di operare uno stop alle consegne e alle prese in carico da e per l'Isola SD, Corriere di Poste Italiane, che sul suo sito annuncia che si stanno predisponendo tutte le misure necessarie per limitare l'impatto sui propri clienti, ma anche BRT e GLS. Un disagio che si ripercuote sulle imprese dell'Isola, per le quali spesso un ritardo nelle consegne corrisponde a perdite economiche ingenti, come nel caso dei 69 operatori del mercato agroalimentare della Sardegna, che pur comprendendo le motivazioni delle proteste degli autotrasportatori, hanno rivolto loro un appello affinché creino una corsia preferenziale per i prodotti freschi, facilmente deteriorabili. Se i blocchi perdureranno ancora per i prossimi giorni, commenta Giorgio Liccheri, direttore di Coagri, l'ente gestore del mercato, si rischieranno danni incalcolabili per tutta la filiera, con aggravi inevitabili per i consumatori finali.